Per terminare alcune citazioni dice Sabina Guzzanti è stata una trattativa fondamentale un atto fondativo della seconda repubblica davvero importante per capire quello che è successo in quegli anni e in quelli successivi per capire passo passo il progetto di Licio Gelli i patti con Berlusconi e il fatto che in questo paese non ci sia stata nessuna opposizione. Anche Matteo Renzi non è altro che il frutto di questo accordo. Afferma Maurizio Gasparri. È un fatto vergognoso e scorcentante. Perché Nicola Mancino e altre persone sì e Giovanni Conso no? In questo modo si azzera la credibilità della procura di Palermo. Conso è stato colui che non ha prorogato il 41 bis ai mafiosi in carcere. Se c'è stato un disegno politico come mai colui che lo avrebbe attuato viene escluso dal giudizio? Invece si processano altri e si allungano ombre su chi non ha alcuna responsabilità. Ad esempio Silvio Berlusconi e Dell'Utri non c'entrano niente con la presunta strattativa stato-mafia che sarebbe avvenuta nel biennio 93-94 con i governi Amato e Ciampi e con Scalfaro gran cerimoniere di questa vicenda. È su di loro che bisogna puntare l'attenzione e non su altri. Il pentito Gaspare Spatuzza afferma Ho messo a fuoco i miei ricordi su Schifani e ne ho parlato ai magistrati perché già prima dell'attentato all'Olimpico sapevo che c'era una trattativa stato-mafia. Quando ho visto Schifani in televisione con incariche politici mi è venuto in mente che frequentava spesso il capannone di Brancaccio a Palermo dove Filippo Graviano si fermava a fare incontri e ho ipotizzato che Schifani poteva essere l'anello di congiunzione per la trattativa. Giuseppe Lobianco e Sandra Rizza affermano Per Lupo e Fiandaca quel processo è privo di fondamenti giuridici. Per loro infatti la trattativa fu non solo un'iniziativa legittima ma addirittura doverosa, utile, benefica di salvaguardia della sicurezza nazionale, trattandosi dello strumento attraverso il quale lo Stato in quel preciso momento storico cercò di preservare la vita dei cittadini. Afferma Saverio Lodato Filippo Facci sa che il processo di Palermo non andrà da nessuna parte. Filippo Facci sa che non è vero che Totorina vuole la morte di Nino Di Matteo. Filippo Facci sa che ormai della strategia stragista dei Corleonesi non c'è più traccia. Filippo Facci sa che gli anonimi in un paese che si rispetti andrebbero cestinati. Filippo Facci sa che un eventuale inasprimento del carcere duro per i mafiosi non sarebbe dettato che dalla ricerca di immagine e credibilità dei pubblici ministeri di Palermo ormai caduti in bassa fortuna. Nicola Mancino, categorico e sintetico, afferma presunta, io la chiamo presunta questa trattativa tra lo Stato e la mafia. Nicolo Amato, afferma, sento parlare di trattativa e io non so se qualcuno si è seduto al tavolo con qualcun altro. So però che c'è stato un cedimento oggettivo dello Stato di fronte alla criminalità organizzata, nel momento in cui, con la mia rimozione, si passa da un regime carcerario più duro a un altro, enormemente ammorbidito. E poi le citazioni di Marco Travaglio. La tesi, naturalmente, era che il processo dovesse traslocare a Roma. Infatti i giudici decisero che restasse a Palermo. Non appena partì, Fiandaca scrisse in fretta e furia un saggio con lo storico Salvatore Lupo, in cui si rimangiava anni di negazionismo. Dopo aver sempre definito la trattativa cosiddetta, oppure presunta, ammise che la trattativa c'è stata, ma l'assozze in quanto insindacabile penalmente, oppure giuridicalmente legittima, ispirata dallo stesso Stato di necessità e affin di bene. Quel bene che costò la vita a 16 persone e la salute a una quarantina nelle stragi di Via D'Amelio, Via dei Georgofili e Via Palestro. Effetti collaterali, e soprattutto nessun reato e nessun colpevole. La trattativa è anche uno stato di necessità per le nostre classi dirigenti, che invece di fare la guerra alla criminalità organizzata per vincerla, ti dicono, ma che, sei matto? Quelli ricominciano a sparare. E poco importa che noi abbiamo 350.000 uomini in armi che potrebbe sconfiggere Camorran, Drangheta e mafia, e che insieme hanno massimo 40.000 uomini. E così ancora oggi il sistema italiano di combattere la criminalità organizzata, l'unico modo è solo quello di mettersi d'accordo. Peraltro, non so se ci fate caso, ma non si parla mai di sconfiggere la mafia, si parla sempre solo di combattere, non di portarla a una confusione, perché come aveva detto Giovanni Falcone, la mafia è uno stato, è un avvenimento che ha un inizio e avrà una fine. Chiunque abbia parlato di trattativa state o mafia, nei termini di combattere la mafia, di sconfiggerla, non ha mai usato il termine sconfiggere, eliminare, cancellare la mafia, ha solo parlato di combattere, continuare a combattere, continuare a combattere, un'eterna guerra procrastinata da carte, burocrazia, accordi sotterranei. Presunto sarà lei. Fiandaca parla di cosiddetta trattativa e presunta trattativa. Cominciamo bene. La trattativa stato-mafia è giuridizialmente indiscutibile in quanto confermata da sentenze definitive dalla Cassazione sulle stragi del 92 e del 93, oltre che dai diretti protagonisti e testimoni non solo mafiosi. Mori e De Donno parlano verbale di trattativa con i capi di Cosa Nostra tramite Vito Ciancimino e non di una semplice presa di contatto, come fa loro dire Fiandaca, che deve farsene una ragione. Se vuol parlare di trattativa, almeno si legga le sentenze. 25 anni di storia, quella più scomoda, quella più segreta, raccontate in un libro, il patto sporco e quindi una storia sporca fra mafia e Stato, ma 25 anni anche di una sua storia personale e blindata. Sì, sono entrato in magistratura nel 1991, ho avuto il primo incarico di sostituto procuratore a Cattanissetta nel settembre del 92, quindi ho vissuto in pieno l'immediato post-stragi e per me è stata una storia particolare. Ero entrato in magistratura, avevo iniziato a coltivare il sogno di fare il magistrato, proprio avendo come esempi uomini e magistrati come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Li avevo conosciuti quando ero entrato in magistratura, mentre facevo il tirocinio a Palermo sono accadute le stragi e poi qualche anno dopo il destino mi ha riservato il compito di occuparmi, assieme ad altri colleghi, delle inchieste sulle stragi. E oggi il lavoro che ho portato a termine a Palermo, che ha riguardato la trattativa tra lo Stato e la mafia, chiaramente ha allambito e riguarda proprio il periodo delle stragi, il retroscena delle stragi. È venuto fuori attraverso la nostra inchiesta, attraverso un dibattimento che si è protratto per 5 anni, che mentre la mafia faceva le stragi, mentre uccideva uomini politici, mentre preparava ed eseguiva la strage di capaci, subito dopo uomini dello Stato hanno intrapreso di loro volontà una trattativa con i vertici della mafia per capire cosa cosa nostra volesse per cessare quella strategia in quel momento appena intrapresa. Ecco, in un bellissimo scambio con Saverio Rodato, il patto sporco, è un libro scritto a quattro mani fra lei e il collega Saverio Rodato. Saverio Rodato dice che il re è nudo e lei risponde che il re era nudo da tempo. Sì, oggi dal 20 aprile del 2018 abbiamo una sentenza di primo grado che certifica che la trattativa ci fu è che uomini dello Stato si resero complici dei vertici di Cosa Nostra nel ricatto nei confronti di quattro diversi governi della Repubblica. Per la giustizia ci sono voluti 25 anni per affermare con una sentenza pronunciata in nome del popolo italiano quello che era accaduto. ma mi chiedo, e con Saverio Rodato ci siamo chiesti in questo libro con una certa amarezza, se quanto oggi consacrato in una sentenza dei giudici pronunciata in nome del popolo italiano non era conosciuto ben prima da soggetti e ambienti della politica, delle istituzioni, che invece di denunciare quello che era accaduto o quello che stava allora accadendo hanno preferito tacere, hanno preferito nascondere, hanno addirittura preferito cercare di cancellare le prove di quel terribile connubio. Ecco perché oggi possiamo essere soddisfatti del risultato a cui è arrivata la magistratura, ma non cancella questa soddisfazione l'amarezza della reticenza oserei dire della omertà istituzionale che ha caratterizzato ampi settori della politica e delle istituzioni rispetto a un tema così delicato e così strettamente intersecato con quello delle stragi che hanno insanguinato la Sicilia e l'Italia intera tra il 92 e il 93. Mentre in Italia si moriva appunto c'era una parte di Stato che trattava, lei dice che quelle migliaia di pagine sono delle pietre che sono state scolpite e che dovrebbero un po' anche stimolare le coscienze di chi si è girato dall'altro lato. Sono stati anni però duri e bui anche per voi, per voi magistrati che avete condotto questo processo. Ci siamo scontrati con difficoltà di ogni tipo, non quelle naturalmente connesse alle indagini che colpiscono anche i settori delle istituzioni, quelle difficoltà ce le potevamo aspettare. Ci siamo scontrati con una diffusa omertà istituzionale e con una resistenza anche delle parti sane del Paese che pensavano fosse inopportuno che lo Stato processasse se stesso. Pensavano fosse inopportuno screditare con un'accusa così pesante settori dello Stato come l'arma dei carabinieri o settori dell'arma dei carabinieri, settori dei servizi segreti, uomini politici. Ma noi ci siamo resi conto subito che ovviamente il nostro era un processo a singoli appartenenti a quei corpi, a quei settori, a quei partiti politici e non voleva criminalizzare nessun ambiente e siamo andati avanti seguendo un principio. Uno Stato che ha paura di far venire fuori e far emergere anche responsabilità di propri esponenti rispetto a fatti così gravi è uno Stato che non può essere autorevole, non può pretendere la collaborazione dei cittadini che subiscono quotidianamente le vessazioni mafiose, uno Stato che poi vuole nascondere la polvere sotto il tappeto e vuole lavare i panni sporchi in famiglia. Noi siamo andati avanti seguendo semplicemente un criterio di doverosità dell'indagine e poi dell'accusa in dibattimento. Ci siamo scontrati con un'opinione pubblica che non voleva sentire parlare di questa inchiesta e le dico subito che con Saverio Rodato abbiamo pensato a un certo punto che scrivere questo libro era doveroso, voleva e vuole essere un piccolo segno di testimonianza rispetto a quanto è stato accertato giudiziariamente in primo grado, doveroso perché attualmente, è un'opinione pubblica che non vuole essere un'opinione pubblica,